Esploderanno prima o poi? Ci chiediamo tutti quanti Una buona serata per tutti stasera Sì, è impossibile passare Cosa fai? Ciao raga Presentata oggi, nuovo partner Di questa stagione di gare sia virtuali che reali Snapshot, energy drink Anzi brainergy drink Me ne faccio una sorsata prima della gara Almeno mi ritira un po' su Cazzo buono o di brutta, a me piacciono di brutta queste cose Andiamo un po' Andiamo alla visuale di gara Micchia dietro c'ho uno che ha 6000 di high rating Green flag, green flag Star on your left No bear, come on Clear on the left You got one on your left Still there, fourth to last Stay right Still there, they're on your left All clear, all clear They're on your left Clear on the left All clear Why, you got one on your left dai c'hai 6.000 di air rating fatti valere esploderanno prima o poi? ci chiediamo tutti quanti cosa cazzo ho salvato lì in curva 1 guarda cazzo ho salvato è impossibile passare sono in 7 in un secondo ma sta ancora correndo? oddio sono esplosi in 2 andiamo le godurie in 7 in un secondo siete? si ieri eravamo in 11 in 2 secondi in gara e non in qualifica c'è anche i polpacci raga mi deve mutare perché qua è un drammatica non è il non è un altro non è un altro non è un altro Sì, c'è l'escalante. 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 C'è l'escalante.